Questa fantastica storia di amicizia inizia nella cameretta di Isabel. Il suo sogno è quello di avere un cucciolo da coccolare. A volte basta davvero poco per rendere felice chi amiamo, un piccolo gesto inizia una nuova storia. I My Lovely Pet sono cuccioli abbandonati che hanno bisogno delle tue coccole. Perditi nei loro occhioni. Ti porteranno nel loro mondo incantato, dove tutto prende vita e tutto è come nei sogni. Qui potrai prenderti cura del tuo My Lovely Pet e renderlo più profumato che mai. La magia di questa storia diventa realtà. Lavalo, asciugalo, pettinalo. Ora la festa può cominciare. Scatta tante foto e immortala ogni momento col tuo My Lovely Pet. Vuoi vivere anche tu la magia dei nuovi My Lovely Pet? Corri in edicola e nei negozi di giocattoli.